Ma c'è stato un impoverimento del Paese. Guardi, io per rispondere alle affermazioni che ha fatto il Ministro Paoletti mi sono andato a guardare i dati degli altri Paesi europei per vedere se effettivamente le grandi riforme portate avanti dal governo Renzi sul lavoro col Jobs Act, la decontribuzione che ormai non c'è più perché il prossimo anno va a finire, quest'anno è il 40% rispetto all'anno precedente, hanno funzionato. Il risultato è che dall'inizio di quest'anno ad oggi, Ministro, i migliori risultati di noi l'ha avuto la Croazia, il Portogallo, la Slovenia, la Spagna, la Repubblica cieca. E non penso che là ci fosse stato il Jobs Act Renziano. La verità è che quel poco di miglioramento sulla disoccupazione che è impercettibile, basta girare per le strade nelle nostre città, è dovuto a delle scelte esterne, dalle scelte della BCE alla diminuzione del dollaro, alla diminuzione del costo del petrolio. Anzi, le misure messe in campo in Italia sono state assolutamente, hanno bloccato la ripresa. No, mi scusi, e voglio solo dire, e voi pensate che in quell'11.4% di disoccupazione che oggi monitora l'Istat, per cui l'Istat, per cui il governo festeggia grandi risultati, c'è un 2% che sono dei voucher che prendono 28 euro al mese.